10 c. Possano ripetere blitz simili a quello di Cortina di due anni fa. In principio fu Cortina due anni fa con i controlli a tappeto della Guardia di Finanza a bar e ristorante a fine anno. Poi a macchia d'olio il blitz si sono estesi in tutta la regione, locali del litorale di Jesolo compreso. Un incubo per i restauratori veneti proiettati alle prossime festività di Natale e fine anno nell'estremo tentativo di salvare un 2013 fallimentare. Una caccia alle streghe per gli aderenti alla FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Conf Commercio, in un tempo di crisi che registra anche per quest'anno solo dati negativi. Negativo il saldo tra chi apre un ristorante o un bar e lo chiude, in vistoso calo anche il numero di clienti. Certo che il fisco ci ha aiutato molto, il cliente che va a mangiare il ristorante è un evasore fiscale, questo credo che non sia giusto perché nei locali anche inne la ricevuta fiscale viene sempre fatta. Perciò devono fare controlli se fanno le ricevute, ma non bloccarmi il cliente fuori. Riuniti in Assemblea Nazionale a Venezia i ristoratori fotografano una crisi senza precedenti. Nel 2012 il settore perde il 2,5% in percentuale in termini di consumi, uguale a 1,6 miliardi di euro. Nel 2013 ha ancora tendenze negative. Anche in Veneto, nonostante il volano rappresentato dal turismo, la situazione è critica. Nel 2012 sono state oltre 1.300 le aziende che hanno chiuso a soffrire, sono soprattutto i centri storici da Belluno a Padova, unica eccezione Venezia dove è elevato il turnover. In Venezia il centro storico stiamo assistendo a un turnover molto elevato, cioè gente non chiudono ma gente che cede e gente che subentra. Ma se a Venezia tutto sommato si vive, non è così nel resto della provincia, in particolare tra Riviera del Brent e Miranese. Il settore che soffre di più la crisi sono i ristoranti stellati, i ristoranti medio-alti. Diciamo che i bar, le caffetterie, le gelaterie e le trattorie stanno andando abbastanza bene. L'ultimo ad abbassare le serrande in ordine di tempo, la media di Mestre. Un pezzo di storia enogastronomica del Veneto ha cambiato gestione non più di due settimane fa. E adesso andiamo a...